Benvenuti amici di Tutomotori, ci troviamo appunto al Motor Show per questa speciale puntata live, abbiamo grandi novità per quanto riguarda il marchio Jeep, qua a fianco a me vedete la nuova Jeep Grand Cherokee modello 2017, completamente rivisitata anche dal punto di vista estetico, vedete appunto una calandra con diciamo estetica maggiormente tridimensionale, molto più allargata, molto più sportiva che dà molto più sportività e dinamismo alla vettura, l'auto è cambiata anche per quanto riguarda paraurti, scarichi, design dei cerchi e interni, molto aggiornamenti anche a livello di infotainment, ad esempio la connettività con Google Play e Android Phone. La vettura diciamo arriverà nelle concessionarie tra pochissimi giorni, quindi vi invitiamo nelle domeniche 11 di dicembre 18 di dicembre a venire a vedere provare presso il nostro concessionario. Altra importante novità, Jeep Renegade Desert Talk, una versione più aggressiva e più sportiva della nostra top di gamma, Jeep Renegade Trailhawk, dotata di bloccaggi differenziali, protezioni sotto scocca, motore da 170 CV con cambio automatico 9 marce, diciamo la versione con la maggiore vocazione off-road in questa colorazione oggi esclusiva, color sabbie con speciali finiture interne, tetto apribile, navigatore e sedili decorati con logo Desert Talk. Ricordo sempre per Renegade che stiamo presentando una versione del 1.6 diesel 95 CV guidabile dai neopatentati e anche una versione 1.6 turbodiesel, due ruote motrici con cambio automatico doppia frizione, perché interessasse la maggiore comodità del cambio automatico prima disponibile solo sulle versioni 4x4. Vi aspettiamo con queste grandi novità. Abbiamo a fianco il nuovo Cherokee Night Eagle, versione esclusiva, sportiva, molto aggressiva di nuova Jeep Cherokee, vettura con 200 CV, 2.2 diesel, cambio automatico, sulla base della versione Full Optional Limited, con appunto design esclusivo in nero lucido sia sulle mascherine sia sui nuovi cerchi in lega, dotata di tutti gli optional di serie, dai sedili in pelle ventilati, navigatore 8 pollice 4, tetto panoramico e tanto altro ancora. Un grande saluto amici di Tutomotori, vi aspettiamo presso Autogepi, come ripeto domeniche 11 e 18 dicembre. Grazie ancora e buone festività natalizie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.